Le misurazioni di ARPA sull'inquinamento acustico causato dal passaggio dei treni lungo la tratta aronese della linea ferroviaria del Sempione hanno dato esito positivo. I rilievi effettuati nel mese di maggio dicono che il rumore causato dal passaggio dei merci è superiore ai livelli massimi consentiti dalla legge. Il sindaco Alberto Gusmeroli in questo era inviato a reti ferroviari italiane una missiva per sottolineare i disagi e per chiedere l'immediato adeguamento alla normativa. Al contempo l'amministrazione aronese ha ottenuto da RFI nuovi campionamenti. È stato stabilito che questi saranno effettuati nelle settimane comprese fra il 4 e il 23 di settembre. Domani invece partono i controlli statici ad opera dei vigili del fuoco di Mercurago all'interno dei condomini dove saranno state segnalate vibrazioni. Sulla sua pagina facebook il sindaco ha spiegato che le verifiche verranno effettuate a partire dalle 9.30 e saranno coinvolte una decina di palazzine complessivamente. Questi sono i frutti di un lavoro iniziato nell'ottobre del 2016 commenta Gusmeroli risultati che hanno comportato numerose lettere richieste agli enti interessati incontri anche con i gruppi dei cittadini ma la cosa importante sono i controlli che verranno posti in essere nei prossimi giorni e settimane. Il primo cittadino aronese invierà in quest'ora i colleghi sindaci dei comuni che si affacciano lungo la linea ferroviaria del Sempione una relazione dettagliata comprensiva delle conclusioni a cui è giunta Arpa. Obiettivo spiega ancora Gusmeroli è che le altre città seguano il nostro esempio e avvino una serie di controlli lungo le zone attraversate dalla ferrovia del resto e quanto è stato deciso lo scorso mese di gennaio in un'assemblea congiunta di tutti noi. Sempre dalla pagina social l'amministratore aronese assicura il suo impegno su una questione che crea parecchio disagio a diversi cittadini. Aspettiamo interventi concreti, vogliamo una città più tranquilla e RFI chiediamo di rendere più compatibile il passaggio dei treni soprattutto merci con la vita dei nostri cittadini. Ha spiegato ancora Gusmeroli.